Ben tornati a tutti. Oggi è lunedì, 30 ottobre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo gemelli. Imbronciati, con una ragione ben precisa. Con la luna piena in dodicesima casa l'umore non può essere dei migliori, ipersensibili a qualsiasi variazione di umore e di clima. Perfino Giove che vi copre alle spalle stavolta può poco, tanto più che contro di lui rema il terzetto sole mercurio marte battagliero, causa di malessere psicofisici o di grane sul lavoro. Se siete nei rami più sollecitati durante i weekend e i ponti oggi sarà il vostro turno di sgobbare e arrabbiarvi. Non va meglio per chi rimane a casa in attesa della visita parenti, che magari si protrarrà alcuni giorni, con venere in quadratura vi date un grande affare per far brillare tutto e deliziare palati e stomaci con la vostra cucina prelibata ma leggera. Potreste riuscire nell'intento se solo non dimenticaste di aggiungere il sale nell'acqua, ma quando le cose partono col piede sbagliato. Qualcosa nasce, inizia, ma darà dispiacere. Quello che sta per nascere viene ostacolato, avversato, impedito. Sofferenze e dispiaceri, l'amore non è limpido, non è sereno. I single incontrano difficoltà di tutti i tipi e resteranno delusi dall'ambiente in cui vivono. Amore sofferto e insofferenza. C'è una persona invidiosa che sta facendo di tutto per rovinarvi un progetto, provate a evitare con lei ogni confidenza e vedrete che presto il vostro progetto sarà avviato felicemente. Ottima intesa con nuove conoscenze del cancro e dei gemelli. Siate sempre voi stessi in ogni circostanza e liberatevi di qualche amicizia. Pericolosa. Non siate ostici con il partner che in questo momento ha bisogno di molta tolleranza. Tutto ciò che farà insieme con altre persone andrà bene. Guida piano. Spianate la strada per ottenere un chiarimento, non dovrebbe essere difficile e probabilmente non vi verrà negato. Se alcuni rapporti presentano delle crepe accingetevi prima possibile a cercare di rinsaldarli, ogni amico che si perde è un'occasione d'oro che si butta al vento. Una validissima persona oggi potrebbe proporvi di collaborare a un progetto molto interessante. Buoni, specie oggi, i rapporti con collaboratori e colleghi. Serata in compagnia. Inutile fare ricami mentali e voli pindarici, piantate bene i piedi per terra e siate razionali. Nel tardo pomeriggio avrete l'occasione di capire i risultati ottenuti con la razionalità della mattina. Il vento oggi porterù via una parte del vostro consueto impegno, vi sentirete a tratti sfiduciati e abbattuti. In serata netta ripresa. Si prevede una lieve fase di stanchezza avendo voi in questa lunedì venere che vi guarda di traverso dal segno nemico, amatissimo della Vergine. Dedicatevi alla vostra famiglia e ai vostri amici e, per il momento, non vi arrovellate più di tanto su alcune questioni, che troveranno poi a breve una facile soluzione. La generale configurazione astrale vi fa ritornare il buon umore e la voglia di circondarvi di persone allegre. Sul piano personale, invece un buon tono muscolare vi è assicurato e specie se siete nati nella terza decade, sarete stimolati a mettervi alla prova. Suggeriti i percorsi in bicicletta che migliorano la mobilità degli arti e della schiena. Luna piena ma imbronciata in dodicesima casa, stretta nell'abbraccio di Giove protettivo che fortunatamente protegge anche voi. Da cosa lo scoprirete subito? Attraverso la posizione di Venere imbronciata in quadratura, mentre il Sole, Mercurio e Marte battaglieri vi vorrebbero al lavoro anche oggi, specie se avete un'attività in proprio che non bada al calendario. Salute buona ma non eccellente, un lieve stato infiammatorio, specie per chi pratica sport, può comportare fastidio, ricordate l'arte della moderazione. Se piove, pomeriggio piacevole bricolando o andovi all'arte culinaria, anche se il risultato non sarà eccellente accontentatevi di quanto realizzato, la prossima volta sarà migliore. Amore ed Eros. Se siete di luna storta e non è improbabile, specie a causa di un turno di lavoro capitato tra capo e collo, sarà la famiglia a offrirvi consolazioni quando rientrerete comunque stanchi e scornati, magari, se la giornata è umida, anche un po' infreddoliti. Una cenetta preparata con mani gentili e premurose sarà il toccasana sia per il fisico sia per l'anima, uomini e donne liberi allergici ai legami coercitivi, ma nel nido familiare trovate comunque quanto vi occorre per sentirvi sereni e al sicuro, almeno tra un volo e l'altro. Lavoro e denaro. Qualche faccenda da sbrigare in casa, le più piacevoli in cucina e fornelli dove la vostra fantasia quando avete tempo libero di sbizzarrisce. Piacevolissimo anche bricolare seguendo l'onda creativa del momento. Se a scegliere l'impegno siete voi e non vi viene imposto dall'esterno siete disposti ad andare avanti per ore, senza avvertire né stanchezza, né in noia. Se in occasione del Ponte di Ogni Santi avete riaperto la cassetta di vacanza e qualche faccenda vi tocca, a partire dalla spesona, se aspettate che gli amici vi raggiungano per trascorrere qualche giornata tutti insieme, la volete lustra e accogliente come un piccolo castello. I guai cominciano quando un'emergenza di lavoro o quantomeno il pensiero di quello che vi attende domani si insinuano nella vostra mente anzitempo rovinandovi la giornata. B e i momenti per chi ama la meditazione e a gambe incrociate con un pezzo classico in sottofondo ritrova finalmente la sua serenità. Benessere. Stati infiammatori in agguato, ai quali rispondere immediatamente con l'uso della vitamina C naturale. Molte vitamine anche nel piatto, le buone verdure e la frutta d'autunno si prestano perfettamente all'uopo, in primo luogo l'uva, ricchissima non solo di vitamine ma anche di minerali. Se poi siete in sovrappeso o vi sentite stanchi e ingorgati approfittate della giornata di riposo per nutrire esclusivamente di acini, bianchi, rossi o neri a vostro gusto. Per lei, suocera gentilissima, sorriso mellifluo sulle labbra. Qui gatta cicova, non sapete dove vuole andare a parare, ma sentite che qualcosa entro sera succederà. Per lui, nervosissimi di turno, alle prese con clienti spocchiosi, pieni di pretese solo perché sfoderano un rotolo di bigliettoni. Certo, fanno gola, e vi farebbero un gran comodo per apportare modifica alla casa o al negozio, ma non siete stracci da pavimento e con una battuta glielo fate notare. Colore delle emozioni, rosso corallo. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.